Ehi, io, io! Stavo pensando... Magnus, non è mica Superman, no? Quindi dobbiamo solo fare quello che fa lui, facciamo qualche gara, impariamo i percorsi, e a quel punto saremo in sintonia, no? Ah 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 ah, ok! Sapendo che ti avrai incuriosito, la passere per le nera base non ti lascerà. Ci penso io. Ma ricorda che è importante il cuore dietro le parole, non le parole in sé. Ora devo andare. Io intanto... Stavo per vincere la gara, ma... Porca troia. Aspetta, non ho capito. Fa un culo, polizia del cazzo! Che cazzo... Dove sei uscita? Ehi, amico! Volevo mostrarti un percorso, ma a quanto pare potrei fare tardi. Due Edward, ventiquattro. Devo fare un controllo, pazzo. Roger, ventiquattro. Già, farò tardi. Che guai si sei cacciato adesso, eh! Cazzo, 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 cazzo... Sono pronto a fare questo percorso. Non ti deluderò. Non ti deluderò.